La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Non troverete traccia sui medi italiani di quello che vi sto per raccontare e dovrebbero tutti chiedersi come sia possibile una cosa del genere. Londra, infatti, in queste ore si sta rendendo capofila di una vera e propria rivolta del popolo contro le limitazioni di libertà imposte da quella che viene definita una vera e propria dittatura sanitaria che sta investendo la maggior parte dei paesi europei. In particolare viene fatto dai manifestanti anche il nome dell'Italia. Dittatura sanitaria la chiamano coloro che contestano il fatto che addirittura si rischia che venga negata la libertà di scelta sui vaccini che sono ancora in fase sperimentale. Come scrivono infatti i manifestanti inglesi sui loro volantini, i vaccini anticovid sono ancora nella fase 3 della sperimentazione che terminerà nel 2023 e sono stati autorizzati in via emergenziale, ma non si conoscono ancora tutti gli effetti a lungo termine. Per questo ritengono che sia illegale, addirittura criminale, costringere o indurre i cittadini a vaccinarsi ad ogni costo. Anche alla luce della recente morte dopo il vaccino della giovane giornalista della BBC. La protesta vede tra gli organizzatori l'astrofisico Pierce Corbyn, fratello considerato ribelle e non allineato del leader del partito laborista, il famoso Jeremy Corbyn. La protesta porta il nome di Unite for Freedom, Uniti per la Libertà, ed è iniziata il 29 maggio scorso con centinaia di migliaia di manifestanti che si sono riuniti nella piazza del Parlamento a Londra per poi sfilare per la città, creando dei veri e propri sit-in e presidi permanenti. Quello che chiedono, che poi è quello che dovremmo pretendere tutti, ed è quello che nelle democrazie dovrebbe essere un diritto scontato, inalienabile, e cioè la libertà di scelta soprattutto per quanto concerne un vaccino. Non vogliamo l'apartheid sanitaria, rivendicano i leader della manifestazione che ho avuto modo di intervistare. Non vogliamo il passaporto sanitario, che definiscono giustamente anticamera del totalitarismo del controllo e pretendono la libertà di movimento che oggi in Inghilterra è negata. Bene, da oggi i manifestanti hanno ufficialmente cominciato ad occupare spazi con sit-in permanenti nei pressi del più grande centro commerciale d'Europa, in modo da poter sensibilizzare quante più persone possibili. Anche se è stato davvero incredibile il numero di cittadini che hanno aderito alla marcia di protesta, come si evince dalle immagini. Immagini che ovviamente non abbiamo ritrovato nei nostri Tg e non abbiamo ritrovato sui nostri media. Non andremo via fin quando non avremo raggiunto i nostri obiettivi, mi ha fatto sapere uno dei leader della manifestazione. Intanto è già partita la macchina organizzativa ed il tantam sui social, perché il 26 giugno prossimo la stessa marcia United for Freedom, che si è svolta a Londra il 29 maggio, diventerà nazionale e verrà quindi svolta parallelamente in tutta l'Inghilterra. Tra i punti principali la ferma opposizione all'obbligo vaccinale che si vorrebbe imporre per i bambini nelle scuole, anche contro il parere dei genitori. Londra ha fatto da apripista a questa protesta, ma la cosa riguarda anche noi. Cosa vogliamo fare in Italia? Vogliamo unirci alla protesta o prestarci come cavie? Approfondimenti sul sito francescomodeo.it. Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.